Anche per lei i porti rimangono chiusi? Per chi viola la legge ovviamente sì, certamente per chi viola la legge i porti sono chiusi, rimarranno sempre chiusi. Tutti i paesi devono rispettare le leggi. Però solo per le ONG perché intanto continuano gli sbarchi fantasma? Non c'è solo o non solo, semplicemente che in questo caso non hanno rispettato il coordinamento delle operazioni e hanno violato il diritto internazionale della navigazione. Lo sanno perfettamente che le regole tornano ad essere fatte rispettare dall'Italia. Prima non era così, adesso è così.